mercoledì 9 se guardo il cartellone a milano proprio trovo qualche cosa che mi incuriosisce molto perché trovo un concerto pomeridiano che ha un titolo intrigante si svolge nella chiesa di sant'antonio abate che vicino all'università statale più o meno dove c'è la via larga in quella zona lì insomma che si intitola sentite un po desideri nascosti vita e amori delle religiose nel medioevo titolo decisamente pruriginoso queste povere monache santo dio la vita è sempre uguale però questo è un tema che al di là adesso scherzato prima dicendo che un po pruriginoso ma è un tema che che ha suscitato dei capolavori insomma noi tutti conosciamo i promessi sposi la storia della monaca di monza e quindi questo è un capolavoro ma esistono altre testimonianze su questo tema andate a finire in letteratura che hanno generato dei veri e propri capolavori e questo anche in musica ci sono delle musiche antiche che sono state scovate nei vari codici sono delle sequenze delle stampidas che è un'antica forma medievale spagnola dei motetti del dodicesimo tredicesimo secolo in cui vengono intonate da quattro cantanti e da un paio di suonatori di biella e di liuto quindi strumenti dell'epoca appunto questi canti in cui vibra questa passione diciamo sottilmente ambigua ma per concludere la serata invece facendo un salto di alcuni secoli cioè alla fine dell'ottocento c'è un bellissimo concerto da camera ecco che io voglio segnalare ai classici appassionati quelli che sono gli abbonati delle società dei concerti al conservatorio di milano salvatore accardo con i suoi musicisti con i suoi collaboratori più vicini eseguirà il quintetto di césar franck e poi un'opera straordinaria bellissima pensate che è un concerto per violino pianoforte più quartetto d'archi non c'è un orchestra c'è un quartetto d'archi però questa partitura di chausson è probabilmente il capolavoro uno dei due o tre capolavori di questo musicista morto in giovane età in circostanze veramente straordinariamente infelici pensate cadde dalla bicicletta ma allora le biciclette erano dei velocipedi quindi una caduta poteva essere fatale batte la testa sul paracarro e ci rimase secco questa è la fine di questo gentile bravissimo musicista di cui potremo ascoltare questo capolavoro invece a torino nella stessa giornata io andrei di nuovo alle 17 alla cavallerizza per ascoltare un quartetto che si chiama con moto è un buon quartetto un eccellente quartetto di giovani che eseguiranno delle musiche soprattutto di heidin dei quartetti di heidin e questo è fatto in collaborazione con il festival heidin di heisenstadt heisenstadt è la cittadina dell'ungheria dove era nato heidin dove si svolge un festival ovviamente a lui dedicato heidin quest'anno nel cartellone lo troverete un po dappertutto lo dico già fin da ora e vedremo anzi in quali altre occasioni verrà fuori quella stessa sera sempre di mercoledì 9 a torino alle 20 e 45 gli appassionati della danza possono andare alle fonderie limone a moncalieri per assistere a un bello spettacolo di danza intitolato kiss and cry non devo neanche tradurre è troppo facile ma chi invece vuole la musica classica con la c maiuscola alle 21 deve andare all'imp gotto dove pensate un po c'è l'orchestra del paese delle nevi io l'ho soprannominata così è l'orchestra sinfonica di nova sibirsk vengono dalla siberia ma questo non significa che siano così così sono una grande orchestra sinfonica suonano benissimo e poi seguiranno un programma ultrapopolare con la quinta e la terza sinfonia di beethoven grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti